Aloy, la donna che ha eliminato gli altri membri di Far Zenith. È un bene che tu abbia resettato il sistema. Davvero? Sì, mi ha permesso di aggirare diverse restrizioni. Però avrei un favore da chiederti. In cambio ti offrirò il mio aiuto. Lavori per Londra e ti aspetti che ci fidiamo di te. Aspetta. D'accordo. Se vuoi aiutarci, provalo. Intanto spiegaci che succede. Londra sta costruendo un'astronave. Acquisisce materiale genetico dai Quen. E li sottopone al... PSR. Una sorta di... Controllo mentale. Ma altri, come... Sua sorella. Seguono una procedura di selezione. Che cosa significa? Hai una logica impeccabile. Walter vuole lasciare la Terra prima che arrivi l'entità di nome Nemesi. Intende creare una colonia su un mondo remoto. Utilizzando il DNA dei Quen per clonarne la popolazione. Inoltre ha deciso di portare con sé una piccola cerchia di individui selezionati con cura. Questi saranno il suo... Entourage. Una sorta di famiglia che governerà la colonia al suo fianco. Come? Dai. Un'ottima analogia. Però soltanto Walter risulterà onnipotente. Posso immaginare come... userà il PSR su tutta quella gente. Corretto. Sulla popolazione e sulla sua cerchia. Così nessuno oserà sfidarlo. Ho... una certa esperienza a tale riguardo. Dici che vuoi aiutarci ma vuoi qualcosa in cambio. Che cosa? È passato un millennio da quando ho iniziato a servire Walter. Ho eseguito ordini mentre continuava a regolare la mia personalità. Sono stanca. E voglio che questa schiavitù finisca. Vi farò arrivare a Walter. Se eliminerete il mio codice sorgente con l'Override. Vuoi che ti uccida? Sei sicura? Sì. Per favore. Fammi riposare. Bene. Ho aperto la porta che vi condurrà a Walter. Ancora non sa della vostra presenza. Inoltre, ho disattivato le difese aeree e marittime della struttura. Casomai tornaste in futuro. Grazie. E... Addio. E adesso... Sono libera. Sembra che Londra distrugga qualsiasi cosa tu. E adesso... Ascora non sa.